Il questore di Palermo Renato Cortese ha vietato i funerali pubblici del boss mafioso Giuseppe Dainotti, assassinato lunedì mattina in via Dossuno alla Zisa. È consentita una messa privata nella cappella del cimitero. I funerali erano previsti domani alle 9.30 nella parrocchia Santa Maria della Pace, in piazza Cappuccini a Palermo. La chiesa non è distante dalla via dei Cipresti dove Dainotti viveva con la moglie di 48 anni. Intanto proseguono le indagini sull'agguato. Gli inquirenti sono al lavoro sull'omicidio della Zisa che ha riportato la città di Palermo indietro di anni ad un clima di boss freddati per strada da colpi di pistola alla testa. Sull'omicidio sono due le piste privilegiate dagli inquirenti. La prima ruota attorno a Gregorio Di Giovanni, altro mafioso di Porta Nuova. Scarcerata da poco come il fratello Tommaso è tornato all'attenzione dei carabinieri perché è ritenuto il mandante dell'omicidio del pedalista Enzo Fragalà, indebolito dall'arresto di alcuni suoi uomini finiti in cella proprio per l'agguato dell'avvocato, potrebbe avere deciso di punire Dainotti che avrebbe approfittato delle ultime operazioni dei carabinieri per conquistare poter nel mandamento. L'inchiesta coordinata dal PM Caterina Malagoli prende in esame anche l'ipotesi della vendetta ritardata dei nemici storici di Dainotti, i boss di Giacomo che già nel 2014 avevano deciso di toglierlo di mezzo appena fosse uscito dalla galera. Giovanni Di Giacomo l'aveva condannato a morte dal carcere e contro Dainotti aveva vecchi risentimenti.